Ragazzoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi propongo un video dove è successo l'impossibile. Non crederete ragazzi a ciò che mi è accaduto e cercherò di spiegarevano nel breve tempo possibile. Fondamentalmente stavo streamando Fortnite, stavo giocando in solo, in una normale pubblica, come faccio ogni volta, e mi sono imbattuta contro tre giocatori che utilizzavano tutte della stessa skin, ovvero la skin del pesce, e stavano semplicemente ballando tutti quanti insieme. Ho scoperto che era il team degli Asgarra, quindi il team di Stormy, di Lollinoba, ed insomma delle altre persone che fanno parte del team. Fondamentalmente mi hanno stream sniperato, quindi sono entrati nel mio stesso game di proposito, senza che io lo sapessi. Infatti mi sono divertita tantissimo perché è stata una cosa super inaspettata e all'inizio mi ero anche un po' spaventata. E poi alla fine abbiamo fatto una cosa molto simpatica, ovvero una sorta di esecuzione. Dato che ero in stream, ovviamente ho fatto decidere la mia chat chi dovevo uccidere per primo, se il numero 1, il numero 2 e il numero 3. E la mia chat ha deciso direttamente per me. Notatevi questo video ragazzi perché fidatevi di me, riderete tantissimo, è stato un video super divertente, mi sono divertita tantissimo io stessa nel giocare e fare quello che è successo appunto nella partita. E fidatevi di me ragazzi, è stato un qualcosa che credo che non avete mai visto in giro, almeno credo. Perché è stato qualcosa di veramente allucinante. Ma prima ancora di iniziare con i video ragazzi, vi invito subito a lasciare un bel mi piace a questo video che vi ricordo come sempre che anche un singolo like aiuta tantissimo al canale. Vi ricordo inoltre di seguirmi sul mio profilo Instagram che è molto importante ragazzi, è il social dove sono più attiva in assoluto, dove rispondo ai direct e dove condivido le vostre stories. Perciò di inauguratomi se lo trovate semplicemente. E poi ragazzi vi ricordo di supportarmi nell'item shop di Fortnite utilizzando il mio codice creatore. Basterà andare nell'item shop, cliccare sul rettangolino in basso a destra e semplicemente andare ad inserire il mio nickname, ovvero Kratomist. E ovviamente ragazzi, come sempre, io ringrazio tutti coloro che decidono utilizzare il mio codice creatore. Ma ovviamente chi lo utilizza avrete tanta fortuna nel 2020. Detto questo ragazzi, godendovi questo fantastico video e... Un bacione a tutti quanti. Un bacione a tutti. Quella bella signore! Quella bella signore! Alex, vaffanculo! Ma come c***o fanno a stifarmi sempre ragazzi? Come fate? Come fate? È così tanto facile diventato? Non so come mai, però ok. Arriva di... Perché farsi gli shieldoni quando poi beccherei gli shieldini, Martina? Dopo 30 anni di questo gioco, non l'hai ancora capito? Volevo piccolarlo, ma si era shieldato. Quindi vabbè, rip. Metti i po... Ma come c***o fate? Come c***o fate ragazzi? Mi rendete conto quanto è facile sdiferare? Ma come fate? Dai ragazzi, ma come c***o fate? Allora ragazzi, ridimi un numero. Fermi così ragazzi, fermi così, fermi così. Chi devo ammazzare per prima? Dimmi il numero. Uno, due, tre. State fermi così. Uno, due, tre. Decido la chat. Uno, due, tre. Ok, il tre muore. No, Lily! Ok, uno, due. Uno, due ragazzi. Uno, due. Prevare il due. Prevare il due. Prevare il due. Scusami però. Ah, ma sono amici di Lily, ma... Ma f***o. Ma f***o, raga, come c***o fate? Hai vinto tu, brother. Mi vorrei fare ammazzare, ma no. Dai, girati di schiena. Non voglio guardarti in faccia. Chi è qua? No voglio guardarti. No voglio guardarti. è a personi. Quanti pesci hai, fratomo? Ancora pesci questo che aveva? Minifia! Yo, brothers! Sì! Tanti materiali Minifia non ha formato nulla, ha formato soltanto il ferro alla fine Minifia anche ha formato tipo 400 di ferro Per evitare di essere scecchionati Sce ничего si questo Minifia prochaine Potrester Matервata Dobbiamo vincere questo game ragazzi Dobbiamo vincere questo game Dobbiamo vincere questo game In onore degli Asgard che ci hanno sdeverato E si sono fatti uccidere Per forza Hashtag Asgard nel cuore Tutti tranne Lily però Comunque ragazzi abbiamo fatto la votazione Su tre persone Cioè su tre player che dovevano essere uccisi Il primo che è stato ammazzato è stato Lily Nivy Cioè neanche a farla apposta È destino Why are you bullying me my friend I'm an egg No il cecchino no Quindi lascia un player Uno dietro Uno in montagna E un altro in assalana super nascosta Un altro in assalana Un altro in assalana super nascosto Un altro in assalana super nascostolato E un altro in assalana superatra Grazie. 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 In onore del team masgarra che mi ha sdaperato e si sono fatti uccidere. Questo è in vostro onore team masgarra. Hashtag asgarra in chat ragazzi nel cuore sempre e comunque.